Salve amici, questo sarà un video un po' più lungo perché parleremo di Sabrina Misseri, quindi ricordate il delitto di Sara Scazzi per cui Sabrina Misseri e la mamma Cosima stanno scontando le sgassole. La novità è che è imminente la discussione innanzi alla Corte Europea di Strasburgo dei diritti dell'uomo che già da prezio tempo ha dichiarato ammissibile il ricorso e quindi c'è materia da discutere. Ma prima di parlare potrei fare un ringraziamento a tutti quanti voi in relazione alle copie del mio romanzo che mi state chiedendo, sono copie limitate, alcune decine le ho già mandate e di questo vi ringrazio. Quindi in attesa di questa udienza mi sono dovuto appuntare numerose considerazioni, perché è importante che il ricorso sia stato considerato ammissibile in quanto la Corte di Strasburgo è molto severa in materia e se lo considero ammissibile vuol dire che ci sono delle censure da fare. Quindi parla Nicola Marseglia e praticamente che cosa ci dice? Dice che questo processo è unico nella storia italiana perché in effetti sono stati dati degli sgassolli senza quelle prove, quel DNA che di solito sono alla base dei grandi processi di cronica. È stata fatta una cattiva applicazione della legge facendo adattare le testimonianze alle teorie dell'accusa. In effetti questa cosa si è notata come molte persone abbiano adattato successivamente le proprie deposizioni a quelle che era la teoria dell'accusa. Eppure la notte fra il 6 e il 7 ottobre del 2010 c'era stata la confessione di zio Michele che poi è stato condannato solo a otto anni per occultamento di cadavere ma lui aveva confessato quello che poi in effetti sembra essere cioè un raptus sessuale e quando dice pure addirittura io la ragazza non l'avevo mai vista così cioè era un periodo estivo lei stava poco vestita diciamo no? Solo con costume. E poi aveva fatto ritrovare il corpo incontrato a Musca ma gli inquirenti diciamo da subito si erano innamorati della teoria che Sabrina essendo gelosa del fidanzato allora allora ci stava questa questa rivalità insomma e quindi era gelosa di Sara che la poteva vedere come una rivale ma è una teoria insomma che non è stata mai dimostrata quindi interrogano sette volte il Michele Misseri che diciamo è un uomo di una personalità debole che si è visto che si lascia condizionare facilmente e quindi il 15 ottobre comincia a dire eh che la responsabilità di Sabrina poi comincia a dire che si è trattato di un gioco che si stavano facendo e quindi e quindi in questo gioco è morta la ragazza e quindi poi lui è stato chiamato poi ha giustificato questo suo dire perché diceva che lui a lui era stato detto che parlando di un incidente seppur grottesco seppur ridicolo da non credere poi nessuno avrebbe pagato delle grosse conseguenze quindi alla fine si innesta si innesta un cortocircuito processuale in cui tutto deve collimare con la teoria della gelosia di Sabrina ci sta ormai questa cosa tutta l'opinione pubblica eh addosso come se l'opinione pubblica ha senso unico l'informazione ha senso unico signori miei purtroppo questo bisogna dirlo anche i signori vengono richiamate più volte a identificare eh come ad esempio quei due fidanzati che stavano in macchina che in un primo tempo avevano dichiarato più volte di averla vista eh a sale che andava a casa a casa di Sabrina mi sembra essere quattordici e due e un quarto quattordici e quindici poi dovettero forzatamente dire no ma forse dovettero anticipare almeno di un tre quarti d'ora o un'ora questo loro avvistamento perché questo loro avvistamento doveva coincidere con la teoria del dell'accusa che diceva che eh che sale era andata molto prima a casa ma questa è una cosa che fa riflettere come pure fa riflettere il sogno del 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 fioraio che è una cosa eh il sogno del fioraio che ancora oggi eh il buccolieri il fioraio dice di aver raccontato di un sogno e invece il sogno è diventato l'elemento principale di accusa alla base di un ergastolo cioè di due ergastoli e eh il fatto che Sabrina e eh e la mamma Cosima eh cosessero appresso alla a Sara la raggiungessero in macchina la facessero salire e questo è visto da dal buccolieri col suo furgone e poi qui dice no ma io ho sempre parlato di un sogno e tutto questo nell'imminenza che dovevano andare al mare ma un sogno che diventa realtà in effetti quindi si forzano vedete nonostante l'opinione pubblica è ormai orientata perché così è stata condizionata ma si forzano i testimoni come pure Maria Angela Spagnoletti l'amica a dire che Sabrina era preoccupata eh eccessivamente eh quando lei era arrivata eh eh sul sul a casa di Sabrina per andare al mare l'aveva vista preoccupata eh è un qualcosa che se voi vedete le deposizioni del della prima della prima ora e quelle dopo vedete che tutti i testimoni hanno cambiato e si sono adattate alla teoria quindi la corte europea in sede preliminare ha notato la profonda differenza e la corte europea che ha notato la profonda differenza delle testimonianze nella fase delle indagini preliminari e eh e con le stesse come le stesse siano compiate in funzione delle teorie dell'accusa perché dovevano essere ad esse funzionale e lineare è una cosa molto grave quindi poi eh c'è l'esame di Michele Misteri che ha fornito spiegazione sul suo cambiamento della versione e ripete da dieci anni ormai sempre costantemente che è lui il colpevole quindi un'altra anomalia ci troviamo davanti a un teo confesso che a parte quella parentese che lui ha spiegato le motivazioni ha sempre dichiarato ancora tuttora di essere l'unico colpevole per per un motivo diciamo sostanzialmente sessuale l'informazione poi dice Marsella senso unico ha fatto in modo che l'opinione pubblica fosse quasi tutta contraria eh a questa mamma e a questa figlia vista come come le streghe a cui non si lesinarono calunnie offese eh anche per loro aspetto magari avendo dei chili in più nessuno che andasse a vedere su quali basi di prove scientifiche di prove vere si poggiasse eh l'accusa quindi questo fa pensare perché poi eh magari ci l'opinione pubblica è molto condizionata vedete ad esempio il caso di che vi devo dire di 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 Massimo Bossetti ad esempio là con un DNA presente sul cadavere eh della 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 ragazza di Chiara è un DNA suo sicuro eppure c'è tanta gente dice no è innocente è innocente perché vedete l'opinione pubblica anche di fronte a un DNA cambia secondo di come viene presentata la la questione su questo ci dovremmo pensare veramente quindi pensate che addirittura fra pochi mesi Michele mi sei riuscita dal carcere e eh in un intervista la figlia Valentina che è la figlia che sta a Roma dice eh purtroppo anche lei anche un dispiacere ma dice mio padre è l'unico colpevole e viene benvoluto ancora oggi dalla gente eh benvoluto come se fosse una vittima a causa proprio della cattiva informazione fatta eh l'accusa alla figlia fu un inganno perché lo convincero che raccontando appunto di un incidente si risolvesse tutto con poco il motivo vero mio padre lo disse nella prima confessione lui stava in garage non sapeva niente eh che che essi eh le ragazze stavano andando al mare quindi Sara non bussò per non svegliare zia Cosima e si affacciò nei garage lui ebbe un raptus sessuale dicendo non l'avevo mai vista così poi disse di averla portata in campagna sotto l'albero di Fico dove lui da bambino confessò questo l'abbiamo detto già eh lui l'ha detto già aveva subito abusi sessuali da amici del del padre e eh e lì disse di aver violentato di aver violentato il cadavere di Sara poi si ricordò di quel pozzo accontrato a Mosca e lo portò lì ma c'è di più lui dice lui dice ma lui non era nuovo non era nuovo eh tanto è vero che lui dava dava questa è una cosa è pure emersa lui dava dei soldi di nascosto a Sara dava dei soldi quando lui poi alla fine era una persona che non spendeva nulla nemmeno per un caffè quindi è un qualcosa di molto sospetto io io stessa diceva Valentina io stessa quando ero più piccola una domenica dovevo fare la doccia mi spogliai tutta mi accorsi che lui mi guardava mi guardava e mi disse eh Valentina non farti più vedere nuda da me così è una cosa che l'era stata molto impressa ed allora lei ovviamente non si fece più vedere ma poi c'è anche anche Dora Dora la sorella minore di Cosima che disse che quando aveva 15 anni fu molestata da 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 Michele ma poi ricordo pure quando lui raccontava della sua esperienza in Germania e in cui diceva c'è una domanda precisa vedete hai mai avuto dei desideri vedendo cadaveri di giovani mostre lui 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 disse pur darsi insomma era una cosa veramente questo Dio Michele non è quel santo che che molti vogliono vogliono dire poi diceva Valentina la gente lo vede tanto buono ma lui è anche violento quando si ha sabbia e lo diventa anche in casa poi continua Valentina che addirittura in relazione a quell'altra testimone Anna Pisanò che pure è un'altra testimone che da amica diventa nemica non si sa forse ve la ribatta televisiva non si sa all'improvviso diventa dice delle cose e poi potrebbe pure sapere Valentina che fino a fatto un telefono un telefono che lei nel processo di primo grado consegnò al giudice in cui c'era un messaggio della testa appunto Anna Pisanò che le diceva la tua sorella è innocente io non lo so se questa cosa è vero ma ma vuol dire a distanza di tanti anni a questi testimoni pur Anna Pisanò se se insomma c'è qualcosa di magari non vero ecco di magari di lavarsi un po' la coscienza se se è così ma poi di questo telefono non se ne è saputo più nulla poi diciamo che l'abbagato Marseglie pure fa notare come sia uno sbaglio processuale quello di non avere imputato tutte e tre all'inizio per omicidio e non si è andata ad ascriviare subito la posizione di Michele Misseri e questo ha fatto in modo che nel processo a carica di Cosima e di Sabrina non emergesse alcuni particolari anche questo la corte europea ha stigmatizzato insomma la mancanza di un dibattimento completo in cui Michele Misseri avrebbe potuto parlare e spiegare tutta la vicenda e quindi non rispondere solo dell'occultamento quindi diciamo è un qualcosa che le basi ci sono anche se poi vogliamo parlare dell'esgassolo combinato addirittura a Cosima che viene condannata per omicidio in concorso cioè si è in quel caso di Cosima cioè si è ipotizzato che questa omicidio lo facesse Sabrina con una cinghia non meglio identificata quindi si è immaginato questa cosa perché non c'è alcun tipo di riscontro da nessuna parte e si è poi altresì immaginato che la mamma presente avesse contribuito magari non so anche lei a stringere a tenere ferma la ragazza non si sa cioè è tutta una teoria un'immaginazione in questo caso qua perché non si parla di DNA non si parla di prove concrete quindi in questa teoria che Cosima avrebbe guardato non fatto nulla oppure contribuito è stata anche l'esgasto ma mi sembra una cosa che la corte di Strasburgo ha stigmatizzato quindi già l'ammissione vuol dire qualcosa di concreto effettivamente l'ammissione non dico che che verrà annullata la sentenza sicuramente ma qualcosa succederà perché la corte europea di Strasburgo non ammette così non le ammette quasi mai questi ricorsi in una valutazione diciamo preliminare quindi questo è un caso adesso molto da seguire vi prego e di non partire con idee preconcette perché so che il 70-80% del pubblico dice no quelli sono stati loro chiunque è stato buttate la chiave la mamma e la figlia sono streghe non vogliamo sapere niente buttate sono antipatiche ecc io vi invito insomma ad avere il beneficio del dubbio ad analizzare meglio questo caso che in effetti pone il Michele Misseri ancora oggi reo confesso nel suolo nel suolo di possibili possibili unico colpevole a sfondo sessuale quindi questo è da valutare e ovviamente noi siamo in attesa di ciò che dirà la corte di Strasburgo grazie dell'attenzione se sono stato un po' più prolisso ma era necessario dare questo mio contributo quindi grazie grazie sempre un abbraccio a tutti quanti voi e alla prossima ciao ciao